Vuoi trovare la persona giusta? Ecco ciò che serve. Se vuoi trovare la persona giusta, la persona che fa il caso tuo, allora devi tenere presente che ci sono alcune cose che devi fare. Ovviamente non c'è una formula magica per trovare il compagno o la compagna di vita, ma ci sono alcune cose che puoi fare, che ti aiuteranno sicuramente. La prima è affrontare la paura del fallimento. Fintanto che sarai soggiogato dalla paura di fallire, memore delle delusioni amorose, perché con Mario è andato male, con Francesca è andata male, con Giuseppe è andato male, allora avrai talmente dei meccanismi di difesa, avrai talmente paura che realizzerai le tue paure. Nel momento stesso in cui temi di non riuscire a trovare la persona giusta, in quel momento preciso non la troverai. Quindi è essenziale che tu metti da parte tutto ciò che riguarda il tuo passato, perché altrimenti sarai talmente acceccata dal dolore e dalla paura che la persona giusta non arriverà mai. E poi devi tenere presente che devi anche crearti il giusto mindset, la giusta mentalità, cioè la giusta mentalità di fiducia. La mentalità di fiducia vuol dire che, oltre ad avere fiducia e trovare la persona giusta, devi iniziare a utilizzare le strategie, le strategie per creare empatia, le strategie per dare emozioni, le strategie per frequentare dei luoghi, diciamo, dove è probabile trovare la persona giusta, le strategie per capire rapidamente. Quindi guardi i miei video, se quella è la persona giusta che ha i valori condivisi e se non è la persona giusta fuori dai maroni, perché eviti di perdere tempo. E il terzo punto è una volta che hai identificato la persona, devi dare spazio ai sentimenti, perché se non dai spazio ai sentimenti non otterrai ovviamente nessuna possibilità. Ma in ultimo, tieni presente che il punto focale sei tu. Diventa la migliore versione di te stessa, concentrati, guardati con occhi diversi, ama te stessa e vedrai che le cose ameranno. Queste cose, diciamo, sono fondamentali e ti aiuteranno a raggiungere dei risultati che neanche la tua più fervida immaginazione pensava di poter raggiungere. Per questo video è tutto, seguimi su TikTok, su Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti a tutti i miei canali YouTube, Massimo Terramasco, felicità benessere, monotostima, crescita personale e nuovissimo esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco. Ciao a tutti.